I candidati c'erano, era tutto pronto, poi è arrivata l'emergenza sanitaria coronavirus e tutto sarà rinviato ad ottobre. Parliamo delle elezioni regionali e per Arezzo anche di quelle amministrative. La nostra città doveva scegliere il suo nuovo sindaco. Tutto rimandato in governo per la grave pandemia che sta vivendo il nostro paese, potrebbe rinviare tutto tra il 15 ottobre e il 15 dicembre di quest'anno. È tutto contenuto in una bozza del decreto che sarà presentato nel prossimo Consiglio dei Ministri. Tra le ipotesi della Presidenza del Consiglio si interviene sul mandato degli organi elettivi regionali, appunto prorogandoli. Il voto referendario sul taglio dei parlamentari è molto probabile che invece venga svolto nel 2021.